Detto giustamente il giornalista, dopo che sulla chiusa Medoli non era possibile sempre dirvi, furono portati a Pedemonte. Pedemonte, per gli scurcolani, è più o meno a ridosso della vecchia chiesa, dell'estrutta chiesa di San Lorenzo, verso Santifico. Proprio nella proprietà dove oggi è quella di Mingarelli, più o meno una volta era ripetita, quella è il luogo in cui dovrebbero essere stati secolti.